Roberto Natalucci, l'Eurobet Palermo vince e riscavalca la Ragnatela Pabba e Bacimobiliare in sesta posizione. Un grande risultato per i play-off e in attesa di play-off nel caso verranno giocati. Risultato importantissimo, dopo tantissimo tempo che avevamo risultati solo negativi. Era una vittoria troppo importante stasera, per i play-off, per il gruppo, per tutto. Era troppo importante. Una partita che è andata come all'andata, 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno, sbloccata da te a due minuti dalla fine. Grande emozione per il gol segnato. Sì, sì, emozione più che altro, ripeto, sempre per il fatto che ci siamo tolti un grosso peso a livello psicologico. Perché poi comunque la squadra gioca, però ogni tanto mollavamo psicologicamente perché non arrivava il gol, il risultato, quindi era dura. Quindi sì, sicuramente una grossa soddisfazione. Una partita molto faticosa, così come dovrebbe essere faticosa l'ultima partita di campionato contro la Venera in Bichini. L'Eurobet Palermo giocherà contro la Venera in Bichini, mentre si giocherà dall'altra parte Cotton Club contro la Ragnatela Pub. Chi è favorito secondo te per arrivare in sesta posizione a play-off? Il Cotton, spero nel Cotton, perché comunque è una squadra che non ha mai lasciato punti, quindi non credo che lo lascerà a fine campionato. Perché conosco un pochino il carattere del Presidente, conosco alcuni giocatori e so che vogliono vincere sempre, quindi non penso che lasceranno punti. No, con la Venera sarà una partita tesa per vari motivi e quindi speriamo bene, insomma. Grazie, grazie, complimenti. Grazie.